Un cordiale saluto a voi tutti da One Air News, il telegiornale delle Marche di TVRS. Ormai è certo che la linea della fermezza con qualche distinguo ha prevalso nel governo che sta per ufficializzare il nuovo DPCM, già peraltro firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dunque sarà un Natale ed un Capodanno blindati entro i confini comunali, mentre lo spostamento tra le regioni ed il raggiungimento delle seconde case sarà vietato dal 21 dicembre al 6 gennaio. Stop delle elezioni in presenza dei superiori, almeno sino all'Epifania, e successivamente dovrebbero tornare in classe almeno il 50% degli studenti. Ha confermato il coprifuoco alle 22, la messa di Natale anticipata alle 20, mentre è solo un'indiscrezione quella di tenere aperti bar e ristoranti a pranzo, con non più però di quattro persone al tavolo. Di ritorno da un viaggio all'estero permane la quarantena di 14 giorni. Un modus operandi, quello dell'esecutivo che non è piaciuto alle regioni, tanto meno alla nostra, e se ne è fatto portavoce il Vicepresidente Mirko Carloni, che in una nota ha espresso il suo disappunto. Sentiamo. Voleva esprimere il nostro disappunto per questo modo di procedere del Governo. Abbiamo ricevuto questa notte la bozza del DPCM, che come è stato già detto non tiene in alcun conto delle nostre posizioni, ma nemmeno quelle concordate in conferenza delle regioni, che mi sembrano tutte molto intelligenti ed apprezzabili. Così il Vicepresidente della Regione Marche, Mirko Carloni, nel suo intervento online, stamattina nel corso della conferenza, ha stato Regioni. Ritengo che questa cosa è veramente triste, perché i sentimenti negativi rispetto a queste scelte stanno arrivando. Gli effetti li sentiamo a proseguito. C'è un grande disappunto perché questo modo di fare crea un danno enorme al nostro territorio. Noi siamo una regione fatta di piccole realtà, di piccoli comuni. Pensate che solo 15 di questi superano i 20.000 abitanti. E quindi la penalizzazione sulla mobilità intercomunale è davvero tanta. Inoltre, ha detto ancora Carloni, i ricongiungimenti familiari per noi saranno un problema molto sentito, perché tra i piccoli comuni il giorno di Natale non ci si potrà spostare. Questo creerà un impatto sociale molto alto. Le Marche, ha inoltre ribadito il Vicepresidente, sono entrate in zona arancione ingiustamente, da un momento all'altro su dati RT che già cominciavano a scendere. E chiaramente le Marche sperano di tornare in zona gialla. L'ultima parola spetta al Comitato Tecnico Scientifico che si riunirà domani. Allora ci si potrà di nuovo spostare tra comuni, bar e ristoranti aperti sino alle 18, ma resterebbe l'ordinanza a Cuaroli del 19 novembre scorso, anti-assembramenti. E veniamo invece ai dati sulla pandemia, 476 nuovi positivi nelle ultime 24 ore nella nostra regione, su un totale di 4.137 tamponi analizzati. La percentuale è dunque dell'11,5%. Ci sono poi da aggiungere altre 33 persone in base a 959 screening con percorso antigenico, da confermare poi con il molecolare. 124 i nuovi contagiati nel Pessarese, 103 in provincia di Macerata, 101 nel Lanconetano. 68 invece soggetti sintomatici rilevati, sempre con una netta prevalenza di contatti stretti con positivi e setting domestico. Quanto ai ricoveri prosegue la diminuzione del totale complessivo? Rispetto a ieri c'è un nuovo calo di 36 unità, visto che siamo a 614. Leggero aumento invece dei degenti nelle terapie intensive, che passano da 85 ad 88. In Italia purtroppo c'è da registrare la cifra record di 993 morti, 23.225 nuovi casi su 226.000 tamponi. Nelle Marche invece 7 decessi, dai 63 anni di un uomo di Pian di Meleto ai 94 anni di una senigalliese. 1.305 nella nostra regione, il totale dei morti. E passiamo ora alla pagina della cronaca. Oltre 2.500 accessori contraffatti ed un soggetto denunciato. Questo è il risultato dell'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Fermo nei confronti di un esercizio commerciale operante lungo la statale adriatica a Porto Sant'Elpidio. Accanto ad attività perfettamente lecite, il negozio attirava numerosi clienti offrendo articoli per cellulari assolutamente identici agli originali come cover, batterie e caricabatterie a prezzi assolutamente stracciati. Il titolare, un cittadino cinese, è stato segnalato alla Camera di Commercio per la definizione del contesto amministrativo di una sanzione fino a 25.000 euro e denunciato. La scomparsa dieci anni fa di una giovanissima bengalese ad Ancona a luglio si aprirà a macerata il processo per omicidio volontario. I pochi resti della ragazza ritrovati nel 2018 vicino all'Hotel House a Porto Recanati. Sentiamo i dettagli. Ad oltre dieci anni di distanza dalla scomparsa ad Ancona della quindicenne bengalese Kameji Mossamet, i cui pochi resti vennero trovati nel 2018 in un pozzo a poche decine di metri dall'Hotel House a Porto Recanati in un casolare abbandonato, ci sarà un processo inizio il 7 luglio 2021 a macerata per l'omicidio volontario della ragazza. Ieri il GUP Domenico Potetti ha rinviato a giudizio Monir Kasi, allora fidanzatino della giovane, anche lui originario del Bangladesh, che la mattina del 29 maggio 2010 l'aveva raggiunta ad Ancona per poi accompagnarla alla stazione di Porto Recanati, dove lui abitava nel grattacielo multietnico. Vennero ripresi insieme dalle telecamere della stazione, secondo l'accusa l'avrebbe uccisa perché geloso del fatto che la ragazzina aveva contatti con un altro giovane. Ora però Kasi si trova in Bangladesh, con il quale l'Italia non ha accordi per l'estradizione, si sarebbe sposato due volte in patria e dunque non era presente in aula, dove c'era il difensore avvocato Marco Zallocco. Parte civile la famiglia di Kamegi, la madre e i due fratelli assistiti dall'avvocato Luca Sartini. Al tempo dei fatti Kasi venne sentito dalla procura di Ancona ed indagato per sequestro di persona, ma il PM chiese l'archiviazione. Il caso fu riaperto dopo il ritrovamento dei resti vicino all'Hotel House nelle immagini, ma l'indagato, di nuovo chiamato in causa, aveva nel frattempo lasciato il nostro paese. Dopo dieci anni rinvio a giudizio, secondo gli inquirenti, gli indizi contro l'imputato sarebbero pesanti. Due uomini ed una donna di nazionalità romena sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Ancona. Si erano specializzati, con il trucco della banconota caduta a terra, nel rubare codici e tessere bancomata soprattutto di persone anziane, ripulendo poi i conti correnti dei malcapitati. In una circostanza, nel giro di poche ore, i tre sono riusciti ad intascare circa 17 mila euro. L'attività di osservazione e pedinamento dei militari ha consentito di coglierli con le mani nel sacco. Una mancata precedenza potrebbe essere questa la causa di un diverbio scoppiato attorno alle 13 di oggi nei pressi della rotatoria alla baraccola di Ancona, dove due uomini, dopo essersi beccati per strada, hanno deciso di affrontarsi viso a viso. La discussione è degenerata al punto tale che uno dei due contendenti di 50 anni è finito in terra, riportando la frattura del gomito con la necessità del trasporto, in codice giallo, al pronto soccorso di Torrette. La Regione Marche ha firmato la convenzione con la provincia di Ancone ed il comune di Camerano per la realizzazione della rotatoria tra la strada provinciale 2, meglio nota come direttissima del Conero e la strada comunale via Sbrozzola che da Osimo scende sino all'Adriatica. 1.300.000 euro per realizzare un'opera di estrema utilità è stato detto in un'area ad intenso traffico. E siamo alla pagina sportiva che apriamo con il calcio vigilia di Ascoli Pescara, confronto delicatissimo per entrambe le squadre con gli abruzzesi ultimi insieme alla Cremonese con quattro punti in serie B di bianconeri che le sopra avanzano ma di una sola lunghezza, seppur con la gara di Pisa da recuperare. Oltre alla classifica e ai tradizionali motivi legati al Campanile c'è anche la sfida tra due allenatori appena subentrati Deglio Rossi e Roberto Breda. Insomma domani al Del Duca alle 21 si salvi chi può, vediamo il servizio di Mario Larocca. Si torna in campo domani sera con inizio alle ore 21 al Del Duca per l'anticipo del decimo turno di campionato in serie B con l'Ascoli che ospiterà il Pescara abito del match il signor Illuzzi di Molfetta. Abruzzesi che devono rinunciare all'olandese Leandro Fernandez, bianconeri che devono invece rinunciare per ben due turni al difensore centrale Riccardo Brosco. Novità sulle due panchine perché da una parte si è seduto Delio Rossi che è subentrato a Bertotto, dall'altra Roberto Breda che ha preso il posto di Massimo Oddo. Novità quindi in panchina e probabilmente ci aspetteremo anche novità in campo per quanto riguarda i schieramenti. Non è facile, l'ha dichiarato anche Delio Rossi, fare bene, far giocare bene la squadra e soprattutto con pochi giorni a disposizione bisognerà ovviamente cercare di ottenere il massimo in questa partita. Ovviamente anche dall'altra parte ci saranno le stesse problematiche bianconeri che molto probabilmente passeranno a una difesa a quattro che potrebbe essere un atteggiamento un po' più guardingo per quanto riguarda la fase difensiva di Unascoli che sta prendendo gollo un po' in tutte le partite. Stesso discorso per Breda che probabilmente scenderà al del Duca con una sola punta con il recuperato Seter con Galano che segnò lo scorso anno il primo dei due gol al del Duca, l'altro di Busellato che probabilmente agirà alle sue spalle. Unascoli che recupera Buckel in cabina di regia, rientrante anche Corbo dalla squalifica probabilmente tornerà dal primo minuto anche il Borniaco Baic al centro dell'attacco. C'è tanta curiosità ovviamente per le due squadre, due squadre che non navigano in una posizione di classifica che possono permettersi ovviamente il lusso anche di un altro falso falso, ovviamente c'è tanta attesa e speranza soprattutto per i colori bianconeri, una scelta quella del padrone Massimo Bulcinelli di affidare la panchina bianconera a un esperto allenatore come Dele Rossi, ovviamente ora bisognerà capire in tanti match ravvicinati senza dimenticarci poi il recupero che ci sarà martedì 8 dicembre a Pisa contro i nerazzurri quanto all'Ascoli possa essere competitiva con un organico totalmente nuovo costruito ad inizio stagione. Le prime risposte arriveranno proprio domani dal campo di gioco del Duga con inizio ore 21 dove ci sarà il derby contro il Pescara. E nella lista dei convocati diramata da Mister Rossi nel pomeriggio non c'è Kragl per un risentimento alla schiena. Nella pallavolo di Superlega invece è una sorta di tour de force per la Lube che ieri ha nettamente sconfitto la top volley cisterna 3 a 0 ma si prepara all'anticipo della seconda giornata di ritorno in programma sabato alle 18 al Palade Andrè di Ravenna contro la Consar per il 32esimo confronto tra le due compagini ed un bilancio nettamente dalla parte dei Biancorossi che si sono imposte ben 24 volte contro le 7 dei Romagnoli. Vediamo comunque come è maturata la netta affermazione contro i laziali guidati in panchina dall'ex Babankovac. Pochi problemi come d'altronde prevedibile per la Lube che segue senza sbavature il suo compito e batte con il massimo scarto la top volley cisterna. I Biancorossi per regolare la pratica hanno impiegato poco più di un'ora di gioco e la partita si è messa subito in discesa sin dal primo set con Richliki titolare dopo il turno di riposo concessogli contro Verona. Subito 7 a 3 in avvio con battute d'attacco estremamente efficaci sul 19-13 ed una situazione quasi compromessa. L'ex Babankovac sulla panchina ospite inserisce sottili al posto di Seganov e qualcosa per i laziali migliora grazie però al servizio di Svark. Gli ospiti piazzano un break di 7 a 1 e si riportano ad una sola lunghezza di distanza 21 a 20 ma il muro di Simon su Sabi rimette le cose a posto per il 25 a 23 conclusivo. Totalmente a senso unico il secondo set con il tecnico Ferdinando De Giorgi che sul 16-6 pesca il promettente martello cubano Yant dalla panchina per concedere un po' di riposo alle alla. Chiuderà Guantoregna sul 25-15. Nel terzo set con Yant sempre in campo nella lube cisterna tiene botta fino a quota 11. Poi un S di Simone e il successivo errore di Tilly spianano ai biancorossi guidati in cabina di regia da uno strepitoso Luciano De Cecco la strada verso il 25-17 che vale il 3-0 festeggiato insieme al debutto del giovane centrale di casa Jacopo Larizza gettato nella mischia unitamente a Marchisio nel finale. Le impressioni dell'opposto Kamil Rischlichi. Se vuoi vincere soprattutto qui in casa contro noi devi fare qualcosa extra credo se noi giochiamo diciamo a nostro livello soprattutto squadre come Latina, Ravenna devono fare qualcosa extra. Oggi mi sembrava che anche il gioco classico base mancava un po' di Latina. Comunque anche credo perché noi non abbiamo lasciato giocare loro. Domenica alle 18 sarà anche il giorno dell'esordio tra le mura mica nel campionato di Serie 3 maschile della MedStorm acerata attesa al big match contro Portoviro che trasmetteremo in diretta sul canale 11 di TVRS. Ieri prima dell'allenamento c'è stata anche la visita dello sponsor Stefano Parcaroli. Abbiamo subito dovuto affrontare un duro colpo da parte del covid ha detto ma ora la squadra potrà dare tutto in campo. In calendario poi martedì 8 dicembre ci sarà la sfida di recupero contro la compagine seconda in classifica il Sol Lucernari Montecchio Maggiore. E vediamo ora le previsioni meteo per venerdì 4 dicembre. Amici Trebi Meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì che vedrà arrivare una nuova perturbazione sull'Italia associata a questo profondo centro di bassa pressione che condiziona il tempo in tutta l'Europa centro-occidentale e mediterraneo compreso. Controlliamo la nuvolosità prevista sull'Italia. Al mattino qualche annuvolamento sarà ancora presente all'estremo sud ma poi arriva questa nuova perturbazione che coinvolgerà principalmente le regioni centro-settentrionali. Anche come precipitazioni a inizio giornata qualche piovasco nelle estreme regioni meridionali ma poi in allontanamento. Arrivano nel frattempo piogge e anche nevicate al nord e sul medio alto Tireno con la neve fino a quote molto basse al nord ovest. Quindi in definitiva avremo una giornata molto variabile e instabile. Al mattino qualche piovasco all'estremo sud ma abbiamo detto lì in allontanamento quindi al sud tornano delle schiarite. Situazione discreta anche sul medio adriatico invece ecco qua tornano precipitazioni diffuse al nord medio alto Tireno e torna la neve tanta neve in montagna ma nevicate fino in pianura tra il Piemonte e la Lombardia occidentale. Per sapere comunque nel dettaglio cosa capiterà da voi anche nel weekend scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Ed a proposito di anticipi sempre per la palla a volo sabato alle 18 scenderà in campo in A2 femminile anche la Megabox Vallefoglia che cercherà a Martignacco di difendere la sua fresca leadership nel girone. Concludiamo ancora con il calcio è sempre più probabile che l'eccellenza riprenda a febbraio prevedendo la disputa del solo girone di andata. D'altronde vista la formula 18 squadre 34 giornate non ci sono molte altre alternative. Se ne saprà di più nei prossimi giorni con 29 turni sulla carta ancora da disputare. Con questo è tutto per il nostro telegiornale. Grazie per la cortesa attenzione. A domani.